GAMINA MINA E WAKA WAKA E siamo su youtube, siamo su youtube, siamo su youtube Ciao a tutti ragazzi Ehm, voglio dire una cosa alla mia amica Sofì, guarda su youtube, guarda che c'è i miei video Quindi, tu vuoi vedere su youtube me? Beh, vai su youtube e cerca Forse c'è il mio, per ultimo, ovviamente E ora, come tiriamo? Nonna, poi lo puoi tagliare? Già, beh, per piacere ti ho detto, non mi fa confondere così ora Dammi un attimo le forze Vieni Grazie Ma io c'ho anche troppo da qua, guarda Ho preso il filo E che ho fatto? Ho fatto Ho fatto Ecco fatto E bene, mi riesco così tornati Tabu Gen Ok Ok Ok